Buongiorno, oggi è il 3 novembre 2020 e sono le ore 9, prima convocazione della prima commissione consigliare. Attestiamo la presenza dei consiglieri. Presidente Evola, vicepresidente Mineo, consigliere Forello, consigliere Chinnici, consigliere Sala, consigliere Arlini, consigliere Ferrandelli, considerato che nessuno dei consigliere è presente in prima convocazione e si rinvia alle ore 10 in seconda convocazione.